e eccoci buonasera siamo qui sesto episodio di facciamolo con ospite max proietti buonasera a tutti ciao 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 rieccoci e max è un dottore in scienze tecniche psicologiche e streamer però streamer di un certo tipo particolare di un certo gusto di un certo dato perché tu parli di psicologia relazioni questioni anche generazionali volendo con una questione con un importante ruolo del dell'empatia in tutto questo sì sì diciamo che l'obiettivo è proprio questo e semplificare verbalmente quello che è la psicologia ma non levandogli l'importanza e poi chiaramente io parlo ne parlo e parlo con le persone non sono non mi occupo di terapia allo stato puro quindi faccio l'intrattenitore ma cercando di mettere un po quell'occhio in più alla all'empatia alla ricerca di se stessi della persona che è fondamentale ci piace ci piace tanto e oltre a come vi ho presentato vuoi aggiungere qualcosa come no certo che voglio aggiungere qualcosa aggiungere le sue varite perché aspetta provo a ridirlo uguale no diciamo no in realtà lo dico ci abbiamo avuto problemi tecnici di audio e quindi stiamo ricominciando però non non ridiremo le stesse cose perché altrimenti anche perché già non me ricordo le rigo guarda io le dirò tutte diverse ok nel senso che adesso cambio proprio la personalità va bene allora prima ho detto vaffanculo adesso dico no perché a me piace far vedere anche che non dico solamente roba serie di psicologia ma dico ogni tanto pure che cazzo ok così abbiamo cambiato proprio la terminologia no quindi l'idea è questa è portare sì l'empatia ma sempre far vedere anche quella parte di me che è più scansonata più leggera perché so pure quello sennò rischi di diventare una figura professionale a tutti gli effetti cosa che io non sono e che non faccio io mi occupo di intrattenimento allo stato puro sì che è questo intrattenimento che c'ha come appunto come fine proprio questo tipo di divulgazione sì in questo senso sento anche vicino a te no perché tu lo fai su determinate tematiche io su su altro poi c'abbiamo questo fil rouge comune che è quello della psicologia giusto e culo che a meta basta secondo me fa questo tipo di divulgazione sai qual è il problema il problema è che allora il mondo del web ti mette davanti a tanta roba è un mezzo meraviglioso perché poi di un sacco di cose però rischi di incappare devi stare attento anche alla minima parola a come lo spieghi perché tutti adesso sanno tutto cioè qualsiasi cosa hanno anche male a volte lasciamelo di no ne parlavamo prima prima della trasmissione una volta mi sono trovato a discutere con una persona questo blastaggio dei sti guru che ti dicono io ti do l'applicazione per fai soldi la depressione vai solo in palestra risolto tutto va in palestra risolto tutto la tua vita va così e magari cioè fa bene anche prima dicevamo che la palestra fa ben fondamentale l'attività fisica in generale non è quello il problema è che non può essere sostitutiva di tante mancanze se il problema io ce l'ho con all'interno di me con me stesso con la mia persona perché magari ho pure una relazione familiare di un certo tipo disfunzionale lì sì la palestra ti aiuta ti dà una mano magari a ricentrarti a prendere energie ma il problema è che internet ecco una volta uno diceva che ha sbagliato pure microbiota e microbioma per parlare di depressione insomma si dicono pure delle stupidaggini che pericolose però che mezzo è guarda ci siamo io e te bellissimi fantastici carucci sì guarda solo perché c'è la trasmissione sennò già te sarei saltato sopra no guarda no più che altro perché sono stanco non per altro però però poi ci pensavo se organizziamo una serata dillo dillo che ti sei messo vicino al cactus apposta hai paura no comunque sì assolutamente è un mezzo è un mezzo bello cioè io amo fare questa è una cosa di cui mi ritengo proprio fortunato di essermi innamorato di questa cosa e di riuscire a veicolare proprio la la comunicazione in questo senso no perché è una cosa nuova è una cosa che ti mette molto a contatto prima dicevo che ovviamente è un buccio di culo perché ti devi confrontare con determinate dinamiche che magari c'è la persona che è scettica a priori su quello che dici perché pensa di saperla ma va in conflittualità proprio anche col mondo interiore delle persone che non vuole sentisse di le cose magari è scettica verso l'esperto è scettica verso la persona competente oppure ha le sue credenze le impone in un certo senso e poi la cosa assurda è che sia scettici in molti casi dove ci sono pure delle prove certe e poi si va a far diventare dei santoni delle persone che danno informazioni prese a caso no che ti dicono che il mondo gira in un certo modo quelli che ti dicono che dentro il vaccino c'è il feto insomma quell'ignativo secondo me trova un feto con i faccini cioè so delle teorie che io proprio no l'hai colpato obama dicono che è colpato obama che lui nei suoi sette anni si era già preparato insieme a bill gates praticamente sommignolo con prof quindi facevano quello loro non no però c'è fantasia indubbiamente soltanto fantasiosi molto fantasiosi tante volte è giusto pure mettere in dubbio della roba no perché la cosa figa della scienza che la scienza la vera scienza ti dice che non è una cosa dogmatica ti dice che c'è un'evoluzione continua il vero scienziato ti dice questo però un conto è un'evoluzione di un certo tipo un conto è che ne so è torna a di che stava meglio quando si gattonava ecco assolutamente professore una volta gli ho fatto una domanda tra l'altro sull'orgasmo femminile mi ha risposto per quello che sappiamo adesso sembra essere così non è mi ha detto di sì mi ha detto questo è un po come va presa la scienza però va presa la scienza cioè va considerata certamente ma altrimenti è tutta fantasia no altrimenti creiamo leggende miti se mettiamo battiamo il petto creiamo una setta fai c'è la persona che ti dà la verità assoluta perché parla col divino quello è no sono risposte semplici per domande complicate ed è un po questa la lotta pure che faccio contro i guru risposte semplici per persone che ci hanno invece delle problematiche profonde perché lì è la salute mentale la salute mentale non è un gioco indipendentemente dai soldi adesso si va molto a business devo guadagnare devo guadagnare devo fare ma tu la c'è una persona che la puoi spezzare in due e quindi anche un professionista può sbagliare perché sei un essere umano no però è la modalità che fa la differenza e la salute mentale non può passare in secondo piano sì assolutamente c'è a me il fatto che una persona perché poi quello che fanno i guru fondamentalmente ha fatto dei percorsi magari quadrimestrali o quel che sia e te fanno cacciare quei 3.000 euro no loro campano così te fanno sto business fondamentalmente consulenze io non c'ho niente contro il business delle consulenze di base se ovviamente sono cose che sono fondate su un'esperienza su una questione lavorativa però ci hanno quei setting che ti dicono io fondamentalmente se studiamo un modello una cosa delle nozioni ti propinano quello e provano a mandarti avanti nella vita con quella cosa e non si rendono conto che per quei 3.000 euro loro possono sfondare la vita di una persona la possono proprio distruggere ma soprattutto perché tu a quella persona gli crei degli schemi che funzionano dei pattern comportamentali quindi degli schemi ben precisi la problematica qual è? uno che quella persona si poggerà totalmente sullo schema e non andrà più a lavorare su se stesso perché si poggerà sempre a quella metodistica che ha e poi c'è una cosa importante quello schema non funziona al 100% quella volta che non funzionerà la persona sarà spezzata in due quindi in molti casi questi sono amici a pagamento che se fanno pagare bei soldi ti dicono io come rimorchiare, come fa? ok perfetto ok va bene ma poi la profondità, quello che c'è dietro se quella persona un giorno vorrà a fare una relazione si troverà solamente a diventare un utilizzatore di esseri umani perché? perché il pattern, lo schema che c'è è quello e invece il lavoro che andava fatto magari è su se stesso sì sì, il motivo per cui io mi scaglio contro vabbè, sia la tecnica di seduzione ma anche semplicemente quando una persona abbraccia una filosofia rispetto al rimorchio rispetto alla frequentazione, alle relazioni che è quella di fare i giochetti i giochetti li puoi fare sì le prime due settimane ma poi se sono naturali sono belli lì sì, esattamente che te devi mettere non gli rispondo per 20 minuti perché non mi ha risposto per 10 e tu te sei stronzata e qua cioè in quel momento quella persona per la miseria ti piace quella persona ti piace manifestalo 9 su 10 se è stata parlata da 3 settimane gli piace pure a lui gli piace pure a lei gli piace pure cioè è proprio un discorso di saltare degli step poi girare intorno a quegli step in modo forzatamente evitante che ti avveniva proprio tutta una serie di contatti di opportunità di creare intimità ma poi sai che c'è poi ti danno pure dei falsi miti perché non riesci nemmeno più a leggere l'altra persona no? perché tu se hai utilizzato quello schema speri di arrivare a un determinato obiettivo magari la persona che c'è davanti in realtà cerca semplicemente un'amicizia una persona a cui parlare si trova bene e quindi scambi pure i segnali perché tu dici no io ho usato questo questo e questo per arrivare e poi ti spezza in due e poi lì come fai? tu lì hai veramente ucciso tra virgolette una persona e poi lì sai i soldi il trucchetto la cosa lì però tu hai distrutto la vita dell'essere umano sì sì è importante insomma quindi io su sta roba infatti è per quello che a volte mi trovo in difficoltà perché tante volte quando ti prendono come paladino di sta roba ti dicono ah vai Max perché a quello non gli hai detto niente che gli devo dire non è che posso cioè mi parlo da un chisciote a me pure mi taggano sotto i video di gente che parla di sesso ma a volte tantissime persone dicono cose giuste altre persone dicono della roba che io mi sono proprio rotto i coglioni pure di sta di a quelle persone salatina ma perché poi mo per esempio sul sesso c'è sta sto trend che è la ritenzione del seme non ti devi fare le pippe non devi guardaporno ma porca miseria ah quindi non funziona no sto scherzando sto scherzando non funziona sto scherzando sto scherzando sì sì lo so però è per dirlo pure forza tirate fuori le mani ragazzi a chi ci sta a guardare ah regà non fasse le pippe non è la risoluzione dei problemi cioè è molto semplice cioè ci stanno questi che no perché tu c'hai l'energia sessuale che cazzo stai a dire il testosterone ti sarsa per tre giorni quattro poi ti ritorna a livello normale secondo gli studi scientifici mo non voglio da dati sbagliati era così per quello che mi ricordo cioè non ti dà nessun contributo tra l'altro quelli sono fluidi interni e come ogni fluido va tirato fuori altrimenti te piano l'evoluzione che fai indormi più perché te piano cioè sono delle cose veramente malate te faccio una domanda te hai mai utilizzato una tecnica per attirare hai mai visto una donna che utilizza la tecnica delle chiavi per attirarti ah quella di how I met your mother tipo no di che cazzo era no allora di itch ah di itch di itch allora c'è questa love coach sex trainer non so volevo metterci qualche altra sigla la mettevo lei ce ne stanno bene tutti praticamente fa un video dove ti fa vedere modi per conquistarlo prende le chiavi e comincia a fare voi dovete mettervi così praticamente siamo tutti dei rincoglioniti quindi allora ragazzi e ragazze se vedete un essere umano che vi fa vedere le chiavi davanti non è mamma che ve le apportate perché ve le siete dimenticate no è perché finalmente vando alle ciance calatevi subito le braghe manco ci arrivate là non date retta a niente perché le chiavi ti faranno chiavare finalmente questo è il messaggio che manderemo oggi ma te rendi conto che come depersonalizzante anche in un certo senso scredita la persona il mondo emotivo che quella persona ha se te ti metti a fare queste tecniche poi come se quelle tecniche ti permettessero a lungo termine magari queste sono persone che vogliono scopare queste sono persone che vogliono una relazione e per fare una relazione voglia anni di terapia in un certo senso se sei a parte secondo me se hai avuto un'infanzia in terapia ci devi andare perché l'infanzia mediamente te sfonna tutti i traumi ma tutti ecco perché il terapeuta è sempre utile pure se non c'hai un evento proprio traumatico ci saranno ultimamente studi scientifici hanno fatto vedere che addirittura come la mamma ti dà il seno come allatta al bambino fa la differenza che se magari la mamma è brusca lo fa in un certo modo il bambino poi risentirà proprio a livello sociale quindi è importante ma soprattutto provate a immaginare che voi magari ci sono persone che non riescono ad interfacciarsi con l'altro sesso o con lo stesso sesso insomma in base alla sessualità che il problema non è io non so approcciarmi io non so comportarmi in un certo modo però magari ho avuto a me piacciono le ragazze ho avuto una mamma con cui ho avuto delle difficoltà e questa cosa mi ha fatto modificare la visione del sesso femminile e quindi io non riesco perché ho paura che il tradimento non lo so qualcosa e proprio immagina io uso tutte queste tecniche ma quando ci sarà quello switch quella possibilità di cambiamento nel dire ok finalmente io posso andare cercare qualcosa di più finalmente posso essere me stesso posso aprirmi posso essere debole perché la debolezza in questi corsi in questa roba non esiste non puoi essere debole tu devi essere una macchina del sesso e devi schiacciare tutte e tutte anche le tue emozioni e quindi quella parte più tenera che poi è quella che ti permette poi di vivere attimi felici sì ma pure te crea intimità cioè quando te metti concretamente a nudo con un'altra persona cioè una cifra è stronzata che vengono dette pure sui social e non ti affeziona ad efficienti cioè affezionarsi allora io sono venuto qua ospite a te però non sono venuto per farmi insultare no 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 ti devi calmare che me dici deficiente così non era assolutamente a te era assolutamente cioè affezionarsi la relazionalità il contatto con l'altro probabilmente è uno dei grandi sensi della vita che cosa dici non ti affezioni diventi una persona evitante e essere evitanti spesso e volentieri è patologico cioè se tu fai le tecniche di seduzione che te pare con una ragazza con un ragazzo te lo rimorchi tu lo porti a letto poi che fai con le tecniche di seduzione che ce fai nel momento in cui appunto parlando di infanzia andando a psicologizzare un po' il tutto ti viene da rimettere in atto uno schema un trauma relazionale che magari ci hai avuto in famiglia che può essere banalmente non sono sicuro cioè ho vissuto una situazione ambivalente nella mia vita e non sono sicuro se in questo momento c'ho affetto mi viene sottratto subito dopo cioè tutta quella serie di schemi che si possono andare a creare in una persona con la tecnica di seduzione i soldi che ci hai speso che stragazzo ce fai? no ma non vivi più nel senso che non lavori più su te stesso per esempio un errore che si fa sempre è quello di pensare di poter fuggire dal dolore il dolore fa parte di noi no? e per arrivare a vivere dei momenti felici perché la felicità assoluta fortunatamente non esiste perché essere felici totalmente porterebbe a quello che poi potrebbe essere apatia noia no ma diciamolo chiaramente la felicità è una cosa di effimero no? sono momenti e so proprio è anche conoscere e affrontare i momenti dolorosi poi che te lo fanno apprezzare di più e che ti fanno vivere assolutamente evitarli con questa roba non ti aiuterà e soprattutto come dicevi te come posso andare un po' oltre? ok io e te siamo fantastici a letto bellissimo finalmente posso raccontare ai miei amici alle mie amiche soprattutto i maschietti ho presa gli ho messo ok bravissimo poi però che c'è dietro sta roba qui? che cambia? qual è la cosa? poi evitamente spostamento sono due tecniche meccanismi di difesa l'essere umano si adatta se quella cosa funziona verrà utilizzata anche in altri ambiti e quindi ci avrai problemi con te stesso con il lavoro con il sesso con le amicizie quando vai ospite da lì vi ho un trasmissione insomma ti vai dappertutto questo va sì sì no cioè in tutto questo la cosa che mi fa rosicare è che ci sanno delle questioni che so evidence based quindi che hanno un rigore scientifico dietro però che costano pure un decimo per la miseria però no è perché se vai in terapia sei debole però se vai da mental coach per fatele cana patata dopo anni allora non va bene menamo se forza tutti dai mental coach alle cappa patate andiamo forza forza mi raccomando l'igiene però è importante assolutamente l'ante serve il sex trainer bisogna fare un corso di igiene di igiene faccio una domanda a caso tra queste dimmi tutto tra i format che fai qual è quello che ti piace di più nella live che poi è stata che abbiamo quella di prima ne era uscito un format allora sì allora il format allora quello che mi piace di più sono le live intime nel senso non facciamo live in intimo ma entriamo nella profondità delle persone ultimamente ne ho fatta una con due dubbi per chi lo conosce su youtube youtube fa cagare uno dei membri del cerbero podcast dove siamo tornati indietro proprio nel tempo ho messo la musica e è uscita la sua persona al posto solo del personaggio quindi è uscito Simone e non solo due dubbi quelle sono quelle che mi piacciono di più però mi rendo conto che quella va molto anche al tipo di personaggio a quello che ti interessa il format che va di più è quello con cui riesco pure avere dei begli ospiti è il format sulle 16 personalità sull'MBTI che sta spopolando nonostante io lo porti come format non sono proprio cioè è interessante ma non sono uno di quelli che dici ah bellissimo top è tutto così ah la funzione F allora sei così no magari sarebbe tutto più semplice oppure tutto più noioso tu però fai immaginare che tu c'hai uno davanti e sai già com'è tutto tu sai già come finirà quello che succederà e quindi però il format che mi piace più di tutti ecco è proprio entrare nella parte delle persone perché la cosa che mi stupisce sempre è lo sguardo proprio il cambiamento quando tu entri tocchi quel punto giusto che non è troppo doloroso e né troppo leggero però c'è quella quella cosa che cambia il mood e si sente è come se l'aria cambiasse e questa è una delle cose che mi piace più di tutti a volte è molto rischioso tipo io una volta ho fatto una live con Paolo Cannone gli ho fatto subito una domanda e lui mi fa hey king piano king mettiamoci un pochino king però poi è stato benissimo però questo è molto rischioso e diciamo che i social mi stanno aiutando molto a imparare pure delle tempistiche sì che non avevo però ecco quello poi il 16 personalità è quello che mi porta più spettatori è quello che mi fa arrivare ospiti secondo me come dicevamo prima fuori dalla live prima che stiamo a chiacchierare è un po' un punto di contatto tra quella che magari è l'interpretazione astrologica dei personali che ho sotto ora ascendente pesci luna e leone e ciò capito l'MBTI ti dà quel contatto con una cosa che tende ad essere più scientifica poi a tutti gli effetti non lo è o comunque c'ha delle problematiche fortunatamente non esistono test ce ne sono alcuni che sono ritenuti più attendibili come i big five però allora poi c'è un problema grande con la 16 personalità perché è nato il 16 personalities che è proprio stile oroscopo dove non ci sono le funzioni cognitive e quindi perde anche quella parte da dove si parte da Jung poi dobbiamo ricordarci che chi ha fatto il test erano dei tecnici non erano proprio degli psicologi delle persone questo pure è importante e utilizzato per capire le proprie tendenze scoprirsi e mettersi in gioco è interessante utilizzarlo per dire io sono così tu che sei antp ok ah allora ho capito la robetta lì è oroscopo lì è oroscopo e perché come puoi pensare che si possa racchiudere tutto in solo 16 personalità come puoi pensare che in queste personalità tu non ci abbia una sfumatura di un'altra come puoi pensare ci sono delle dinamiche che lo rendono limitato però è molto interessante perché io parto da quello e poi si fanno delle domande pure sull'ambito personale è affido sì sì assolutamente ma io penso che questa cosa palga anche ditte su cose anche più scientifiche concrete come magari il Big Five o come magari anche lo stesso attaccamento cioè io ho notato non so se se ti è capitato pure a te che c'è questa tendenza soprattutto in America adà così tanta rilevanza all'attaccamento come se fosse il fulcro di una persona ne determina alcuni tratti ma poi sono sempre molto individuali tu non puoi ridurre quella persona a un attaccamento sicuro insicuro evitante eccetera eccetera no? questa cosa o la patologizzazione di una persona se tu c'hai in disturbo che cazzo lo so sei ciclotimico no? tu non puoi ridurre la tua vita a quello altrimenti ti immergi in uno schema in una definizione che poi ti limita rispetto all'espressione di cosa sei ma che poi per un ciclotimico ecco la ciclotimia insomma c'hai dei cicli di up e down no? di momenti di depressione magari di momenti di mania il problema è proprio questo che ti va a definire e una delle cose che prende per esempio il depresso è quello di sentirsi sbagliato all'interno del mondo quindi se tu lo vai a etichettare categorizzandoli in una cosa così piccola facendogli vivere questa cosa il mondo diventerà sempre più buio quella persona avrà sempre più difficoltà diciamo che il problema degli Stati Uniti è che loro estremizzano molto molto le cose sono innovativi ma estremizzano molto però per esempio una delle cose che si può utilizzare ancora oggi che ci siamo un po' dimenticati è la persuasione che la persuasione adesso viene vista a volte come sinonimo di manipolazione ma in realtà non è così perché la persuasione nasce poi perde l'accezione del termine perde prende quel significato un po' negativo perché c'è stata la lotta tra sofisti e platonici però la persuasione nasce perché io possa esprimermi meglio e tu tramite la persuasione comprendermi meglio per legare per creare quel legame empatico quindi se io però vado tutto a meccanicizzare la mente umana è vero che c'ha degli schemi è vero che a volte va a compartimenti stagni ma è bella perché è varia e perché quegli schemi si possono rompere e quindi se noi andiamo sempre a trovare delle soluzioni in della roba già scritta e così e basta non ci evolviamo infatti uno dei limiti secondo me della psicologia è che molti psicologi non collaborano con altre discipline con un antropologo con un sociologo oppure sono legati al vecchio io faccio sempre questo esempio quando andavo quando collaboravo con la dottoressa che andavamo ai meeting di psicologia tu arrivai e ti facevano e tu che psicologo sei ma che cazzo di psicologo so io ma quello che capita ma io c'è uno che mi piace di più uno che mi piace di meno io so freudiano mi fa piacere beh che freudiano tra l'altro nel ventunesimo secolo è pure coraggioso io pure questa cosa dico beh Freud è stato innovativo è stato figo ci sono delle cose interessantissime però è come se noi sulla medicina utilizzassimo ancora le tecniche d'Aristotele si ma pure dei ipocrate capito no però dai diamogli un po' più di venenza Aristotele no ipo puoi dormire tranquillo Ari bravo hai bloccato la medicina per 50 anni però bravo però non male bravo sì no vabbè poi il problema di Freud è che è ancora lo psicologo più pop no quindi è una persona incredibile era pure uno stronzo sì però era figo cioè era figo un culo in realtà era pure cioè relazionalmente se pensa che sia quello no perché ha scoperto tutte queste cose no sulle donne l'isteria ma in realtà lui era sereno c'era qualche impiccio Jung faceva il panico Jung si dice che se bombasse tipo le pazienti cioè proprio vabbè però al di là di questo ciao Jung buonasera prossimo invitato no ufficialmente invitato proprio no però diciamo Freud ci ha avuto la grande intuizione che poi proprio non è tutto suo però vabbè insomma delle istanze della mente no è sì io super io quindi infinito parte cosciente e il censore dell'io quindi che è il super io per farvi capire il censore dell'io sono per esempio i valori anche quello che ci insegnano i genitori che vanno molto a legare sulla coscienza però c'è un mondo dietro sta roba no sì che poi è anche molto discorso di terminologia no perché poi ci stanno wave successive wave più moderne più adottate adesso che dicono quella cosa no secondo me pure tutte queste lotte tra il punto focale è che attualmente quello che succede è che ci stanno approcci integrati cioè io per esempio quello che ho studiato cioè a me piace l'approccio cognitivo comportamentale però inevitabilmente quello che con cui sono entrato in contatto magari per la sessuologia è quello manzionale e ho studiato cinque anni e psicodinamica quindi so tipo c'è che mi scoppiazza la cognitivo comportamentale e la psicologia dinamica che sono quelle che mi piacciono di meno davvero gestalt tu no 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 sistemico non si la sistemica mi piace però diciamo allora la cognitivo comportamentale mi piace ma è come viene utilizzata oggi viene utilizzata per tutto tutti dicono va di moda quindi è molto pop come hai detto prima psicologia dinamica è l'esame in cui io ho preso il voto più basso all'università e perché penso che l'unica cosa che mi annoi più della psicologia dinamica è la psicometria ok ok però non ce l'ho con nessuno siete bellissimi psicologi psicodinamici psicoterapeuti di tutto il mondo siete meravigliosi io sono contento un discorso anche di gusto di identità io per esempio la dinamica studiando la parte più sessuale è inevitabile soprattutto nell'interpretazione di alcune appunto dinamiche relative a quello che è il mondo della sessualità e a tutto ciò che la sessualità rispecchia del mondo interiore stanno teorie fighissime riguardo l'interpretazione dinamica inevitabilmente delle fantasie che ti fottono il cervello c'è della roba figa per esempio la Gestalt che è la psicologia della forma fa un trattato sul BDSM ne ho letto uno non mi ricordo di chi è purtroppo non ve lo posso citare però mi ricordo che la divisione che fece pure sui tabù su determinate cose era interessantissimo e per essere fatto in quel periodo fu innovativo noi adesso abbiamo criticato Freud ma andatevi a leggere il racconto di Freud che parla dell'omosessualità di Leonardo da Vinci perché Leonardo da Vinci racconta che c'era un uccellino che gli metteva la coda in bocca ma sai che quello è fallaceo quello è fallaceo perché non mi ricordo che cazzo era successo è figa l'idea la struttura di come arriva e l'interpretazione ti fa capire pure quanto è interessante io mi ricordo lo studiai in filosofia e rimasi no io esame di dinamica io a dinamica ho preso 30 vabbè ha preso 30 sì ho preso 30 perché mi piace mi intrippavo parecchio sono quelle cose non sto a casa mia se no sfonnavo tutto scherzo sono quelle cose che cioè io pure ho sempre avuto io in realtà la dinamica mi è sempre stata un po' qua però poi l'ho abbracciato inevitabilmente per la sessuologia in realtà però è quella cosa figa cioè quella cosa capito la psicologia intesa in senso proprio come si vede culturalmente non è quella cosa empirica evidence based perché appunto è dinamica è dinamica è dinamica ma senti poi te la faccio io e Livio ci conosciamo proprio al di fuori di questo mondo la domanda la domanda adesso ma qua serata che t'hai ribevuto no non era no allora dopo se volete vi racconto Livio Ricciardi che si reggeva sui gomiti no 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 io non penso che accadrà questa cosa ragazzi datemi retta sono momenti incredibili però se vuoi puoi chiedermi la mia esperienza sessuale peggiore ci arriviamo ci arriviamo dopo ti faccio un culo così beh allora andiamo subito al soda amico mio dai scherzo la domanda che ti fanno ah la domanda qual è la domanda che ti fanno di più perché a me adesso che blasto i guru mi dicono appena vedono una cosa sulla depressione come se io fossi un esperto di depressione in realtà si conosco ma è chiaro qual è la domanda proprio tu arrivi e ti dicono oh Livio senti sai che non ce n'è una comune cioè non c'è una che fa da king su tutte le domande ci stanno gruppi di domande che spesso cioè diciamo che il denominatore comune è l'ansia prestazione che secondo me è la malattia sessuale cioè proprio il 2022 no 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 dell'ultimo anni secondo me almeno dell'ultimo decennio perché quello che è successo fondamentalmente è che per una questione culturale anche molto ereditaria da tanti decenni e in concomitanza dei social network del rapporto fra i pari anche della pornografia perché non essendoci educazione sessuale cortesemente entro qualche anno cerchiamo di farla arrivare perché sarebbe un po' utile no no va bene così retrogradi sì sì stiamo apposto così l'educazione sessuale o comunque i contatti con la sessualità tu li prendi al porno perché tu vedi il porno e dici ah è questo prestazionale da morire e quindi c'è questo discorso tremendamente prestazionale o tremendamente estetico quindi tutte le domande vertono su rapporto col corpo rapporto col genitale che nel caso dell'uomo è una questione di dimensioni nel caso della donna è magari spogliarsi essere nudi concretamente no e quindi rivelare la smagliatura la cellulite le forme in generale che possono essere viste come una cosa perché poi lì c'è molto quello schema è che se non mi piaccio io non piacerò nemmeno all'altro certo invece speso volentieri non è così e poi tutta una serie di aspetti prestazionali tipo sono abbastanza bravo sono abbastanza brava sarò all'altezza no quindi di molto un discorso di interpretazioni quelle che possono essere bruttino le aspettative dell'altro le esigenze altrui vanno fuori ma aumenta l'aspettativa di quello che c'è di te ok quindi è un macello però spessissimo anche con clienti che fa gli schemi sono questi guarda su sta cosa del prestazionale in realtà è molto interessante perché veramente come dicevamo prima sta roba del pensare solamente a rimorchiare andare a letto quando ti fa lavorare per esempio uno dei pensieri comuni del maschio è quello di avere un fisico di un certo tipo perché devi essere perché ha le ragazze poi le ragazze magari ne frega una mazza è molto più una cosa maschile questa sta cosa è molto interessante diciamo che forse questa cosa della prestazione è proprio quello che sta prendendo il nostro mondo il nostro mondo è prestazione cioè io vado su twitch non faccio i numeri sono una pippa faccio i numeri pure se io sto qui non dico una parola genio king mitico c'è molto e questo lo potremmo adesso ho detto twitch perché stiamo su questa piattaforma io lavoro su questa piattaforma ma normalmente in generale è proprio così se sei virale sei uno che vale se sei uno non virale non vali sul lavoro devi essere prestazionale e quindi si riflette in tutto in tutto i voti i voti tutto tutto è prestazione io me incazzo con i colleghi universitari per ditte ho una media buona buona cioè punto al 110 lode è un discorso più che altro paraculo per il futuro non per altro perché a me del voto me ne frega anche sei un paraculetto sei sì 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 io accademicamente sono paraculo assolutamente però vado verso quello che mi piace a me ne sa me sta sul cazzo prendo 21 lo accetto perché a me del 30 per la media e di stammi ammazzare su una cosa che detesto che è magari super distante da quello che voglio fare nella vita ne frega un cazzo la vedo esattamente come te la vedo proprio esattamente come te non io pure ho sempre preso i voti fortunatamente sono sempre andato abbastanza bene però anche i voti bassi una volta una professoressa mi disse no ma io lei è così brava non le posso mettere 18 ma mi dia sto 18 mi rompa li coglioni no ma lei deve tornare perché ma io non voglio tornare mi dia sto 18 io non ci voglio andare su sta roba non mi interessa e poi non era un conto sulle materie quelle fondamentali che lì io avevo psicologia e l'organizzazione che è una cosa molto distante da me sia da quello che voglio fare ma anche dal mio concetto in un certo senso è psicologia perché vabbè poi io sono uno molto orientato sulla clinica ho presi una cosa tipo 22 l'ho accettato come se fosse mio figlio perché era una cosa che proprio non mi interessava bello dei papà c'è pure il 2 c'è pure la forma della testa capito come stavo super sereno e lo stesso discorso poi vale per la carriera no? e la stessa cosa poi si proietta nel sesso nel come nel voto vai a vedere il collega tuo quanto ha preso perché devi stare in competizione la stessa cosa c'è nel sesso e te causa la gelosia retroattiva perché dici eh no c'era l'ex sua o la ex sua gli faceva far questo gli faceva far quello ma ok ma con te la vive diversamente il problema nasce se non c'è comunicazione cioè se io non comunico con te e tu non comunichi con me ognuno va per affari propri e quindi non c'è quell'apertura sessuale sai quante volte mi sono trovato a parlare con la con la mia partner parlando proprio di roba pure per sperimentare per capire ma senti questa cosa così ti piace non ti piace perché per c'è molto questa concezione dell'uomo in realtà invece la comunicazione è una delle parti fondamentali molte coppie proprio si sciolgono proprio per questo motivo perché non c'è comunicazione sessuale perché il sesso è una parte importante della relazione c'è poco da fa gli elementi se tu vai a vedere anche scientificamente sono attaccamento accudimento e sesso quindi levi un terzo e quel terzo può essere levato dalla credenza che uno delle due persone entrambi ci hanno di quello che potenzialmente potrebbe piacere l'altro esatto quindi tu magari arrivi col concetto che faccio il coniglietto a pecora con la ragazza bu 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 e quella è la cosa che soddisfa aspetta il coniglietto è che è meno duro sì 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 è il trapano no no come cazzo vabbè ma guarda allora io sono molto parliamo di tutto però mi fa strano pensate che fai il coniglietto adesso no io non faccio il coniglietto ho mente te che fai proprio il coniglietto con le orecchie capito questo mi mette c'hai pure le cuffie che possono essere le orecchie guarda quindi tu fai il coniglietto con questa partner perché tu pensi che fare il coniglietto sia un qualcosa di soddisfacente per la donna no magari ti sei visto pure qualche tizzo e fai questo siamo capiti è una cosa che conosco molto bene e quindi dici ah no a posto ho fatto la performance da vita magari quella persona vuole una sessualità più tranquilla o magari vuole il coniglietto su un'altra posizione e tu su quell'altra posizione fai invece un'altra cosa invece basta chiedere quello fa la performance se proprio la vogliamo la vogliamo dire in ballo perché poi è una cosa estremamente tossica su tutti i fronti sulla sessualità soprattutto che tu devi partire per il concetto che questo è no una cosa che a me mi fa perdere la testa è la prima volta con una nuova persona devi performare che cazzo performi non la conosci non sai cosa gli piace quella la prima volta deve essere farà cagare verosimilmente come tutte le prime volte io di solito normalmente non c'ho questo problema però di solito le prime volte sono il pistolino più veloce del West io invece rischio la celecchina tipo capito ce l'hai timidino ce l'avevo poi l'ho superata no il mio è rampante ma è centometrista c'è Marcel Jacobs e quindi questo perché perché la prima volta stai nell'ignoto Dio chissà se andrà bene questo quell'altro arsi l'aspettati e invece la prima volta va presa esplorativa esatto sono d'accordissimo devi conoscere quella persona che ne sai di che cosa tu magari stai a pensare a una performance cioè per dirti la durata o l'erezione se una persona che spesso e volentieri tra l'altro il corpo femminile da un punto di vista anatomico fisiologico predilige una stimolazione esterna e stai lì e pensi all'erezione e alla durata quando magari quella persona in quel momento ha bisogno di un'esplorazione di un altro esatto soprattutto magari sui preliminari che tutto hanno a che fare meno con l'aspetto penetrativo compratevi un coniglietto guardatevelo ma non imitate cioè possiamo dire che se ci avete un coniglietto a casa don't try this at home come diceva il wrestling assolutamente bene e questo è il discorso pure pornografico io dico sì prendi ispirazione di porno poi la prima volta hai letto con una persona vedi se parla inglese capito come vabbè c'è sta poco da dire dai che sei dito non te parla inglese dici cazzo il porno è fake no però è vero è proprio una questione pure di di abituazione pure al suono a quello che si dice a uno come ma poi c'è tutto questa esagerazione nel porno chiaramente c'è un'esagerazione pure a livello vocale a livello ma pure di estremizzazione di alcuni movimenti e quindi va preso proprio per quello che ecco perché iniziare con quello è deleterio tu ansimi quando sei a letto con una persona sai che dipende dipende dalla ragazza che c'ho davanti però sì cioè non è una cosa che mi che mi blocca insomma cioè non ho un blocco perché magari provo vergogna o sta cosa dipende dipende da chi c'ho davanti a volte sì a volte no perché è come se mi adattassi molto al mood non è una cosa per me fondamentale dipende perché questa è una lotta che porto avanti ma anche con me stesso perché io per esempio non sono abituato però è una cosa che cerco di implementare perché secondo me è molto importante cioè spesso il discorso che faccio è pensasi parlando sempre della dimensione aterosessuale una ragazza non ha ansima invece rimani di merda devi all'ansia devi l'angoscia non gli piace non gli piace è verosimilmente la stessa cosa all'altra quindi devo ansima non maschi secondo me devo imparare ansima vabbè te lo fai il 50% delle volte pure di più non per forza che devo fare mi devo dare un cazzotto insomma dipende deve esserti nel momento no non ci riesco no però è un discorso promuoviamo questa cosa qui ansimiamo senti domandina stronzina facendo lo streamer hai bombato di più no bombavo bombavo di più quando facevo l'animatore volevo arrivare qui però con lo streamer con lo streaming sì sì e se avessi voluto adesso che ho partecipato al programma in televisione primo appuntamento ci avrò avuto almeno non esagio 150 200 richieste di uscire quindi avrei potuto fare veramente caporetto andate su real time ragazzi tutti su real time fate il casting portate in girasole noi coach di seduzione basta una puntata una puntata di primo appuntamento guardate come uscite fuori una cosa vergognosa e sta cosa degli animatori che trombano quindi è uno serotipo vero sì sì è vero però dipende allora nei villaggi puri dove c'è il villaggio molto di più perché ci sono delle persone che vengono proprio per trombare l'animatore cioè lì se viene Johnny Depp viene il più figo di tutti la persona sei tu sei tu nei camping village sì ma molto meno perché i camping village ci sono molto familiari e poi ci stanno pure molti adulteri e adulteri cioè c'è un sacco però sì sì un sacco non so forse però l'animazione è molto io sono entrato in animazione nel periodo in cui si cambiava dalla vecchia alla nuova cioè quella vecchia era casinista e poi dopo adesso si è arrivati non in tutte le parti ma parlo nelle parti quelle più importanti dove ci sono i performer dove ballerini attori di un certo livello cantanti perché sta aumentando la qualità quindi è molto cambiato anche la struttura delle attività però sì di base perché c'è la spensieratezza l'animatore a piacione già la divisa lo vedi sul palco è quello che te fa ridere quello che fa quindi sì porca miseria per Dinci Bacco per Dinci Bacco che mi vuoi chiedere qualcosa di particolare che ho combinato no perché te vedo bello predisposto dai raccontaci qualcosa delle esperienze di animazione io pensavo pensavo di bruciattela così invece va bene e invece sono stronzo bene beh allora ti racconto questa villaggio turistico arriva il classico ballato dei soldi con la moglie arriva e io calcolavo ero un responsabile quindi mi occupavo del controllo del prodotto non ero proprio un animatore questo arriva e fa oh è bello dai su paligia su faccio scusi chi è lei scusi chi ti si incula a parte che pure se avessi fatto quel tipo di lavoro un po' d'educazione però dai su trattava tutti così una volta due tre a una certa gli offrivamo o le escursioni o le partite a tennis perché lui giocava a tennis o faceva le escursioni e uno gli si trombava la moglie è così è andata così la sei cercata penso sia l'unica volta che non mi sono mai sentito in colpa e lui faceva ha visto quell'animatrice quella io vado lì ho visto che mi guarda sì pure tu moglie ne è male questo sì bello però questa è molto cattiva come cosa no non è cattiva secondo me è giusta è tipo non è giusta ci sta ci può stare non fatelo a casa è stato notantum ma non è una cosa cioè una cosa però sì veramente lui proprio ti umiliava lì c'era proprio la rabbia di tutti lì c'era la ola quando qua chiedono prima la valigia poi la moglie la valigia con dentro la moglie con dentro la moglie no no e lì proprio lui ma immaginate proprio l'atteggiamento no ah uè Pirletti vieni qui dai la cosa metti qui allora che tocca fa ma chi te conosce questa è stata una però ce ne sarebbero tante che però non le racconteremo ok va bene va bene rispetto il tuo il tuo confine andiamo sulle esperienze bruttine voglio un'esperienza imbarazzante tua a letto ok allora ti racconto questa allora vi faccio proprio la storia allora immaginate serata meravigliosa cena fuori posto super romantico si va avanti ed è bellissima serata bella 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 stai in macchina arrivi sotto casa c'è quel bacio quello da fiaba lei fa così con le chiavi lei ha fatto così con le chiavi io gli ho zompato sopra no però c'era il momento in cui dici diciamolo un po' alla romana te mi io te te strappe i vene varigose a mozzichi allora quindi c'era pure i vene varigose non c'era i vene varigose era un modo di allora sto scherzando c'aveva era una brava ragazza però dommaggia tu stai lì pronto lei a un certo punto sto bacio passionale prende e ti sposta ti guarda le palle dell'occhio e ti dice allora aspetta tu in quel momento senti proprio c'è la marcia e fa tu immagini proprio con sta suoneria in testa e lei ti guarda e ti fa vai accendite drago mamma mia io lì c'ho avuto ma è diventata è caduto una requiem è diventata me ne son nato ne ho fatta hai fatto proprio ma perché era proprio un modo coatto io mi ricordo ancora quelle unghie brillantinose che mi guarda vai ascendi te drago mamma mia madonna mi è uscito un coatto tu mi dico madonna ma un po' di finezza va bene essere così però non esageriamo ma non è ma è una questione proprio di gusto ma poi draga a chi ma io non so un drago ma quale drago ma sarò una di quelle stelline che accenni a capodanno quando c'hai paura dei botti ma quale drago ma accendi i drago te che questa è stata una cosa molto molto però è un pre invece prestazioni proprio imbarazzanti beh quando vai a letto con una ragazza che è appena conosciuto entra la sorella in camera e mentre tu lo stai facendo lei era una ragazza con cui tu eri stato giocatore ma non lo sapevo però io a me è successa una cosa simile devo cercare di renderla il più anonima possibile ma no allora Livio Ricciardi fai i nomi non fare il pavido i nomi i nomi non verranno li faccio io grazie a Dio non li sai so tutto sta mentendo so tutto me l'ha raccontato prima della trasmissione c'ho i testimoni non è vero io te denuncio no comunque c'era serata non dico dove serata ok posto X sta ragazza mi si avvicina e mi fa ma tu sei quello di Instagram sì sono quello di Instagram ma così però carina quindi sì sono quello di Instagram allora i social fanno trombare di più ah sì 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 sono quello di Instagram ti è uscita pure la voce sì sono io sono quello che parla di sesso sono proprio quello vuoi fare una provetta con me questo è successo anni fa cioè in realtà non era nemmeno tanto che stavo su Instagram però ti giuro il primo periodo che poi si vede che non c'era tanta cioè 10.000 follower su TikTok eri capito e quindi c'era sta cosa tu sei quello che parla di sesso su Instagram ma sì so io così parliamo tutto quanto e poi ci esco va bene in realtà c'è stato pure un piccolo inconveniente c'è tipo un'esperienza brutta inserita ovvero che ti giuro appena finito un secondo dopo arrivano le guardie io tipo mi sono rivestito Spidi Gonzalez buonasera questo sa facciamo salutiamo pure le guardie la ragazza della serata ciao e no pezzo adesso me odia non ti salutiamo più vaffanculo ti odiamo anche noi no no ti saluto io sì invece ti odio non so chi sia e quindi vi faccio buonasera mi fa ragazzi però non ovviamente c'ho l'accento napoletano però non mi fate fallo se no sembra razzista mi fa ragazzi però non vi mettete a chiacchierare qui perché ci sono le telecamere chiacchierà e quindi lei ha imparato che in quel posto con le telecamere flash forward questa ragazza non la vedo più però c'era una sorella che era una bella ragazza e quindi ci seguivamo su instagram ogni tanto chiacchieravamo un giorno decido di andare più spinto dalla serie uscimo gli faccio capire che insomma no era aria e mi hanno affanculo dalla serie no io non posso perché tu sei stato con mi sorella ma che siamo matti io gli ho risposto mica se siamo sposati però accetto il tuo confine ok lei tipo così è dopo un'oretta mi sembra in avvia la voce questo è tipo Gesù che non vuole che io racconti ma soprattutto usa sempre sta paraculata del rispetto il tuo confine hai visto pure a me me l'ha detto no io sono una persona che cerca di rispettare rispetto ma cambia proprio il modo se fateci caso proprio il movimento rispetto il tuo confine proprio di dire oh allora c'è sto ho capito e quindi tipo dopo mezz'ora mi riscrive e mi fa no comunque ci ho ripensato dita posso ci esco accadono cose e poi io dico posso così cioè nel senso c'ho la coscienza pulita dopo tipo due settimane esco con altra ragazza ancora stavo con quest'altra ragazza ovviamente con queste persone non c'ho avuto relazione avete capito quello bravo quello che fa hai capito sì dieci ragazze per me il confine il confine ti vedevo come lo supera poi la linea del confine hai capito sì e quindi uscivo stavo uscì con sta ragazza e incrocio la prima delle due sorelle e mi guarda malissimo ahia dico cazzo e cala qui sa tutto sa tutto io tipo oh ciao che dice lei così dico forse sa mi sa che sa e quindi poi quando riesco con la seconda ragazza dico senti ma guarda tu sorella mi ha guardato un po' ma mi fa eh sì gliel'ho detto bravo un po' bevuto brava complimenti però poi alla fine io sono stato sereno con me stesso poi l'hai fatto con tutte e due no questa cosa non è accaduta anche perché sarebbe un po' strano secondo me con due sorelle sono quelle cose un po' però se ti metti nei panni delle due sorelle scherza sono un cretino sono un cretino sono deficiente scusi no c'è ragione no quello sogno della vita il bello è che tu provi a immaginare qualcuno che si sta a vedere l'intervista all'inizio allora max è divulgatore di psicologia si si capito io divulgatore di sessuologi e se non vado tutte e due si o no no ma è giusto così perché bisogna far vedere che noi siamo esseri umani perché a me la cosa deve essere incravattato capito cioè è bello anche parlare delle proprie esperienze proprio il discorso di vicinanza e è calla ma sta a preparare non mi dirà adesso facciamo che ti devo raccontare qualcosa che rapporto c'hai con le relazioni facciamo un passo indietro verso una roba un po' più seria ok allora guarda io va bene ho chiuso una ultimamente da poco però insomma sono un amante della delle relazioni nel senso che quando mi so fidanzato sono sempre stato molto serio nel senso che sono sempre stato un fiode una buona donna salvando mamma però quando ero solo in coppia sono sempre stato molto serio mi piace la complicità la cosa che mi disturba ecco è quando diventi dipendente dall'altra persona a me piace molto il confronto se una cosa non ti piace mi piace che tu lo dica e a me piace dirtelo la vivo molto bene ecco il mio sogno è trovare una persona che possa diventare la madre di miei figli indipendentemente dall'amore che abbiamo perché l'amore può finire ma io vorrei quella sicurezza che indipendentemente dal fatto che l'amore finisca lei sia un'ottima madre quindi pensi sempre al bene del figlio senza che lei ci attacchiamo non venga messo in mezzo quello è il mio sogno ecco quindi no no io sono proprio pro relazioni me ne basta una poi però quando sto da solo fermato mi diverto però in relazione secondo me è bello è bello condividere con qualcuno concordo assolutamente ecco diciamo diamo la pal al balzo per contrastare un pochino no sta cosa sta paura che c'è stata delle relazioni come se fosse no io non voglio una relazione seria ma che sei matto è una cosa bella cioè nella vita ha detto tanto ma non so se ti rambesse avrebbe steso poi sulle relazioni ma sento perché no innanzitutto non fumate perché avete sentito che vi succede se non volete relazioni io se vuoi ti posso dimmi da Ignazio la russa vai buongiorno diciamocelo anzi dicetevelo democraticamente parlando le relazioni mi è piaciuto no allora io penso sta roba qui che il mondo è fatto l'essere umano si unisce in società in gruppi sociali proprio perché ha bisogno di altri esseri umani altrimenti saremmo molto più indipendenti di quello che siamo e per vivere bene all'interno del mondo le relazioni sono importanti relazioni di qualsiasi tipo amicali relazioni di coppia relazioni aperte insomma come ognuno vuole vivere la relazione io penso che siano fondamentali perché ti permettono di accrescere la conoscenza degli altri e soprattutto la conoscenza di te stesso ci sono dei momenti intimi che tu hai in una relazione di qualsiasi tipo che ti fanno scoprire delle parti di te che da solo non potresti vedere perché il nostro corpo cerca a volte di difendersi non ci fa vedere cose no e quindi la relazione secondo me è una cosa meravigliosa e se si riesce a rompere questa cosa della sessualità della comunicazione del mettersi dei paletti in un certo tipo secondo me è appagante in tutto concordi di debolezza e di forza che ne pensi perché io ho avuto tipo la prima shitstorm della mia vita è stata quando ho criticato la frase devi sta bene prima te per sta bene in una relazione anche accompagnare quello che hai detto tu adesso che ne pensi di questa frase allora penso io la trovo molto vera ma in parte nel senso che l'eccesso in entrambi i sensi è una cosa che ti può distruggere se io sono totalmente concentrato su me stesso non posso anche creare dei fili conduttori con il mondo che mi circonda viceversa se sono concentrato troppo sul mondo a volte posso perdere me stesso io sono un po' contro questi eccessi quindi sono d'accordo con la frase però dipende dalla modalità e con l'intensità e com'è diluita perché però ecco vedi pure che ti è arrivata la shitstorm io quello che avevo detto fondamentalmente è che è una frase che secondo me porta a sentire inadeguate tantissime persone che magari si sentono appunto in conflitto con loro stesse perché magari sentono di non stare bene con se stesse ma a volte la relazione proprio anche rispetto a quello che tu dicevi prima che sono opportunità di evoluzione opportunità di conoscenza di noi stessi è una cosa in realtà preziosa e fermarsi a priori per una frase del genere per un concetto del genere è profondamente sbagliato ovvio che se c'è delle problematiche irrisolte dal punto di vista relazionale forse è meglio cercare di trattare prima o contemporaneamente a una relazione rispetto a quello al contatto umano relazionale che ci deve avere ma poi non capisco perché una cosa deve escludere l'altra nel senso lavorare su se stessi può essere anche tramite le relazioni assolutamente perché io magari in quella relazione mi rendo conto che ho una mancanza che io prima non mi sarei mai reso conto di avere e quindi perché non può essere un dare avere perché non può esserci una bilateralità perché deve essere solamente o devi stare in giro e fare socialità o devi solo lavorare con te stesso io pure dico sempre in molti casi l'ho usata però secondo me il contesto è il modo che fanno la differenza intesa come la stai intendendo tu che va a eliminare tutta quella parte relazionale perché devi lavorare su te stesso a prescindere non è così come dicevamo prima perché gli esseri umani stanno in comunità nasce la comunità nasce pure per spalleggiarsi per aiutarsi e tante volte ci sono cose che non vediamo e se tu anche quando si parla dello psicologo la terapia è una relazione cazzo pure potente e quindi se tu dici a una persona che deve lavorare solo su se stessa magari allontana anche una persona che ti può dare degli strumenti perché perché tu sei troppo preso a vedere solo te stesso e quindi perdi il focus non è come se guidi la macchina io faccio sempre questo esempio di solito io faccio questo esempio è un esempio un po' di McLuhan che si occupa di comunicazione però io lo faccio lo inserisco in ambito psicologico è come se tu vedi il mondo guidando la macchina se tu butti l'occhio fisso davanti in fondo per capire quello che è il futuro vai a sbatte perché ti perdi se tu guardi solamente lo specchietto retrovisore vai a sbatte perché ti perdi e invece guarda il qui ed ora buttando un occhio verso il futuro e un occhio verso il passato perché non è che e quindi la stessa cosa è questa le relazioni sono importanti perché magari ti possono far riscattare dei traumi vecchi oppure farti capire che in realtà quello che ti è successo non è così ma io personalmente invece metto in mezzo se io non avessi se io avessi sposato totalmente questo tipo di frase questo tipo di filosofia probabilmente non mi sarei evoluto a livello umano relazionale come lo sono adesso perché a me le cose che mi hanno fatto sbattere più il grugno nella vita sono state proprio le relazioni cioè io ho avuto fino a anni fa una conflittualità con la relazionalità con tutto ciò quelli che sono gli schemi soprattutto parlando di relazionalità quindi con le ragazze che mi hanno sfonnato e ho detto forse c'è qualcosa su cui lavorare no? sì sì ma è quello che dicevamo ecco è chiaro se invece ti doni solamente alle relazioni per coprire delle mancanze allora lì è chiaro che non puoi stare in una relazione la frase è vera io ogni volta che sono fidanzato mi lascio ne trovo subito un'altra perché non voglio avere dolore non voglio fare allora lì è chiaro che devi lavorare su te stesso perché se no non puoi stare bene in una relazione ma è situazionale le relazioni ti permettono tutta evoluzione ricordiamoci che l'evoluzione non è che c'è evoluzione serve per evolversi all'interno del mondo che c'è non tutti i processi evolutivi sono funzionali ci sono per esempio un uccello che cambia il becco che per il mondo che viviamo oggi è funzionale quindi è un'evoluzione che lo porterà ad essere la specie più forte in quel caso magari quello là che gli è cresciuto gli sono cresciuto le sopracciglia andando avanti nel tempo migliorerà l'evoluzione è molto casuale ok e quindi però bisogna mettersi in gioco per crescere per incuriosirsi perché se tu non ti relazioni con gli altri perdi anche di curiosità perché se no tu stai sempre nei tuoi schemi nei tuoi comportimenti stagni e quindi c'è quell'acqua ferma che è acqua sì ma è acqua che poi a un certo punto diventa maleodorante ripugnante quasi assolutamente stra concordo basta serietà ti faccio un po' di domandine infamine vai mai mandi nudini mai no non mi piace non mi accita ok non ti accita e sono contro proprio chi manda foto di tette di piselli in chat senza che ci sia complicità una molestia sessuale assolutamente assolutamente hai mai sentito parenti stretti farlo e qua salutiamo Mattia mio barbiere per tanti anni te chiedo scusa Max non ci ho pensato che c'era una volta non ho sentito non ho mai sentito niente ho sentito mia madre che diceva di no a mio padre no c'ho mar de testa questa una volta l'ho sentito e questo sì dimenticato il nome di qualcuno portato a casa o al villaggio al villaggio sì ma proprio non lo sapevo il nome non è che l'ho dimenticato ah proprio annavi dei baby cucciola no loro mi chiamavano Max 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 hey hello perché tu quando stai lì noi c'avamo parecchi stranieri e quindi il villaggio dove stavo c'avamo pure 5.000 persone a settimana cambiavano ma chi cazzo se le ricorda tutte certo quindi quelle facevi hi my friend what are you doing that's good ah che viene stiamo ma vamo e quindi è apposto così sì 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 quindi sì però no però persone con cui ho avuto una relazione eh non per forza di coppia però che magari pure della notte sola così non ho mai dimenticato il nome e mai ho chiamato il nome di un'altra persona no a me non mi è mai successo mi stava per succedere alcune volte in cui quel periodino lì che raccontavo prima che bebe c'è un po' sì sì capito che c'ho avuto un attimo tipo come cazzo e quindi andavo di baby capito non vi fidate di chi chiama baby a letto Tieni una nota col body count Body count sarebbe quando Te segni a gente e ti sei bombato No, 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 sì No Però hai esitato Perché quando ero più piccolo, sì Poi hai perso il conto Però sembrava troppo flex Un po' l'ho perso, sì, lo ammetto Hai mai dato il numero sbagliato di proposito? No Mai fatto Non te lo do proprio il numero Ma tu sei un cucciolo, Max Tu sei veramente un cucciolo Ma io sono orso poi, capito? A me se non mi piace te lo dico Non ti dico, non mi piace Guarda, no, no, niente Fatto nel bagno di una discoteca? No, mi fa cagare Troppo zozzo Eh, te credo, sì, sì Mi fa troppo schifo, non ce la faccio Penso che non mi esercerrebbe manco col cric Non ce la faccio È troppo sporco Sì, è pure un discorso olfattivo Ma proprio Che io mi devo poggiare da qualche parte Che magari prima uno Poi un altro Uno che ha fatto Uno che No No way No Hai mai fatto la cacca dopo la prima notte insieme? No Io c'ho un problema con la cacca Io sai che io pure Non riesco Io riesco a farla quasi solo a casa mia E In giro non riesco Io pure se sto a scoppiare Scoppio Non me la sono mai fatta sotto Però tutte le volte che ho avuto attacchi molto forti Che è Fortunatamente o era a casa o a casa della mia famiglia Se no ero Deceduto Perché non riesco No io Vabbè Dopo un po' Cioè Edo mi abitua Non c'ho Il culo abituato Si chiama tipo così Ah E Cioè riesco a casa Però tipo dopo la prima sera Cioè Abbiamo fatto sesso Ci stiamo conoscendo Non posso fare la cacca Vai Però è un concetto super sbagliato In realtà la cacca va normalizzata Si 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 Però insomma uno Finisci Dopo senti Dalla cosa Apri la porta Dici Madonna che bello l'odore del sesso Non va più via L'odore del sesso Che hai addosso Invece no È merda Quindi È così Stavo leggendo un po' di commenti Si Che paura No Non escido niente di scandaloso Ok Hai mai dormito durante un atto Sessuale No Tu si Si Lo sai a me che mi succedeva un periodo Era un periodo che stavo Mi frequentavo con una ragazza Scusa Dopo ti racconto una storia Che non è mia ma Te la devo raccontare Perché mi fa sempre ridere Ok E tipo C'è questa cosa che Ci vedevamo sempre molto tardi Era un periodo che ero Super stressato Super stanco Lo facevamo in macchina Io mi ricordo Che mentre lo facevamo In particolare In una posizione In cui ero poco attivo Quindi quando lei stava sopra Sognavo Chiudevo gli occhi Non dormivo Ma sognavo Cioè lo sai quando sei In quella fase presonno Che c'hai i primi flash O c'è un episodio schizofrenico Oppure sognavo Penso Cioè spero Spero che fosse un sogno No 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 Sono piuttosto convinto Che fosse così Però che succedeva sta cosa No io invece ho un'amica Che raccontava sempre sta cosa Cioè era Un periodo si è frequentata Con uno Lo vanno a fare la prima volta Praticamente lui c'era questo problema Quando veniva Sveniva Quindi praticamente Tu mangiavi c'era E succedeva Quindi lei era Non l'ha più frequentato poi Questo motivo Pensa se veniva tipo Che lei stava a 90 Cioè se è un po' L'osso del collo È pericoloso pure No là è una questione De posizioni Cioè devi sapere Che quando Il bro sta avvenendo Tu gli devi sta sopra Così No tu sei pronto Tipo Matrix Invece di schivare Il pallotto Lo devi prendere Le pallotte E fai no Assurdo Assurdo Sì 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 Succedeva sta roba Ultima L'hai mai fatto da fatto O da ubriaco Sì 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 Come te la vivi da ubriaco Minchia volo Io volo Non sono uno di quelli Che non gli funziona qualcosa Anzi Vabbè c'è il problema Che non finisco mai Ok Dettato proprio Dalla sostanza alcolica pure Ma mi piace un botto Anzi Forse l'alcol Fa uscire Quella parte più famelica Di me Che di solito Magari è un po' più compita Più pudica No Mi fa essere pure Un po' più sporco No a me invece tipo Cioè Mi si eleva la libido Mentre solo la La goliardia Cioè divento tipo Cristian De Sica Sessualmente A bella E dai Gesù E mettete giù Sì sì capito E fammelo bu Capito E dai Iside Timida cara Che spettacolo Quella scena A me quella Mi pare più di tutto Sì sai qual è Quella la tedesca Gli fa E batta Pianta il culo È sempre addosso Nella stanza vecchia Stiamo Il 6 gennaio Stiamo a luglio E allora mi fa un sacco Sì sì Io lo sai A proposito Devo fare Sotto Natale Tutti gli anni Mi guardo il best off De Cristian De Sica De 18 minuti Su Youtube Mi fa stare bene Mi fa stare bene Siamo dudrogloditi Sì 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 Assolutamente Ma lo do Parliamo di psicologia A me farete Cristian De Sica Che ti dice Sì 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 Da cara Voi ti racconto Direi Andiamo verso la conclusione Così Capodanno tra il 2020 E il 2021 Sì Quando c'era la roba Che i vicini Te dovevano denunciare Io faccio una cosa Piccolina Con gli amici a casa Se smontamo Se fammo tipo Una grigia immensa Poi se smontamo De alcol Tutti gli amici a dormire Svegli Io E' un'amica mia E Io ho un gatto Però sono allergico Ok Ma ricordo sta cosa Pensa che ti ho raccontato Ma sì 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 Vai Prego prego Vado per Per il popolo E L'ho accarezzato Tutta la sera Non curante Quindi stavo Con gli occhi scoppiati Pieno dei pruriti Cose Però ho detto Prima di andare a dormire Ovviamente L'alcol in me era potente Quindi ero anche Non curante Del fatto che ci avessi Non sciocca anafilattico Dopo dieci minuti Probabilmente E mi sono visto Tutto Natale in India Perché ho detto Dai da ubriaco A capodanno Una cosa del genere Che mi ha fatto cacare Troppo Cioè non ho riso Nemmeno una volta Finito il film Vado in bagno Mi vedo E non mi riconoscevo In faccia Stavo modificato Dall'allergia Cioè l'occhi gonfi Le cose Ho detto Mi prendo un bentel Nanti qualcosa Sapevo che era il bentel E poi ho bevuto Negroni Mi sono messo a letto Ho realizzato Forse bentel Anno più negroni Non è un match Che va troppo bene Probabilmente Al 2021 Non c'errivo E poi mi sono svegliato Ed eccoci qui Beh È una bella storia Allora io ti racconto Questa qui Terribile Questa dell'alcol Mamma Spero che tu Non vedrai mai questa cosa Io ero fianzato Con una ragazza Che beveva un botto Si beve due bottiglie Di amaro montenegro Ti chiedono se sei Effettivamente romano Sì Oddio perché Non sembra Non lo so Che succede Ma sei effettivamente romano No L'ospite dico No Sì Ti va a cento celle Non lo so No Allora succede Sta roba qui Beve due bottiglie Di amaro Da sola Andiamo in camera Parte Che cazzo Parte per dormire Dopo due bottiglie Parte proprio Col sesso orale E a un certo punto Ha detto E ha vomitato E tu che hai fatto Ho dovuto A consolare Scusa Ma c'era te Col durello Che stavi così Scusa 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 Perché io Sì sta tranquillo Ma appena Pure scusa Ma ti ha preso? Sì Io poi so Ho un problema Con il vomito Quindi Sì pure a me Ho una di quelle cose Io posso vedere Qualsiasi cosa Ma il vomito Mi fa vomitare Mattia una volta Vomitò in macchina Mio fratello Stavamo io e mia madre Mi madre guidava così E io stavo così E mi ha lasciato tutto Vomitato E mi ha fatto scendere Mi padre A tutto Dopo lui Perché noi ce la facciamo Appena qualcuno dice Dai ce la faccio io No dai ce la faccio Voi Ti racconto Mamma mia Va sempre peggio Sta live E calla Sempre un altro capodanno Il primo capodanno Che ho fatto con gli amici L'ho fatto a casa mia Poi ho rifatto L'errore quell'anno Però è andata molto meglio Sto ragazzo Beve e fuma insieme E a mezzanotte Tutti escono a vedere i fuochi A me mannava Perché a me di i fuochi mi interessa Fino a un certo punto Rimango lì a cillare sul divano Vedo questo E si alza Col colore di questa parete Ok Fa tre metri E non so perché Ce l'aveva messa Gesù C'era una sedia Davanti al bagno di plastica Lui collassa Sfonda la sedia di plastica E sta lì Lo prendiamo a cinquine Acqua A faccia Tutto quanto Si riprende E a un certo punto No 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 È proprio collassato e basta Ha collassato Si è ripreso Vomitato Entro il bagno Tutto quanto Poi a un certo punto Che fa Eh Gli voglio benissimo Io me lo sto a preparare Si chiude in bagno Eh Quindi già panico Dico questo Se viene un'altra volta So cazzi Come cazzo Apri 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 Lo troviamo Seduto sul cesso Che aveva vomitato Nel bidet E il bidet Si era otturato No dai No no Basta Ce vengo mai Livio mi inviti a una cosa Non ci vengo mai Perché mi hai fatto proprio Immaginare come sei otturato No Io ti odio Tu sei la persona Che odio No non lo voglio sapere Se tu me lo dici adesso Litigiamo Ok Ah dimmelo Te lo dico Si Però devi essere Non dovemo litigare No non litigiamo Il proprietario di casa chi è Non litigiamo Ero io Ok Quindi dovevo sturare sta cosa Io pure ero bello in forma Cerco i guanti per tutta casa Non li trovo Eh Quindi ho inserito la mano nuda Per sturare il bidet Ma questa è una cosa vomitevole Si si no Te giuro Una delle cose più Poi Ero abbastanza disinvolto Perché avevo bevuto Quindi l'ho fatta tipo Capito Non look Hai capito che ha detto Che era disinvolto E' completamente pazzo Si 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 No è stata una cosa assolutamente folle Mi sono lavato le mani Con qualsiasi cosa Che lava nel mondo Con qualsiasi cosa Sapone marsia Sapone piatti E' stata così una bella live Grazie Si si capito Con conclusione Un'esperienza positiva Vai vai Chiudicela così L'esperienza più positiva È stata cominciare a lavorare sul web Indipendentemente 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 C'hanno ragione che in soldi Roma Indipendentemente E' uscita un po' burino Indipendentemente Dall'hating Che si riceve Però Veramente per me Non piove più Nel senso che Non sapevo bene Che strada fare Sì ho studiato Mi sono laureato Però immagina La mia famiglia Quando gli ho detto A 30 anni Io mi butto su web Vado su Twitch Che cazzo Però penso Che sia una delle cose migliori Della mia vita Che mi sia capitata Proprio perché Mi sta dando la possibilità Di fare delle esperienze E anche se dovesse andare male Però Almeno ho provato A fare quello Che veramente volevo essere Per esempio Una chiacchierata come oggi Non sarebbe mai esistita Se non mi avessi buttato E quindi Penso che questa sia Una delle cose più belle Che mi è successa Negli ultimi anni Però non ti metto a piangere No no Mi sento De capite In questa Cosa bella Ti sei innamorato De una cosa Mi sono innamorato Cioè io Quando accendo la telecamera Che vado in live Non sto mai male Mi è successo poche volte Di non accenderla Volutamente Perché magari Quando sei in periodo Sotto shitstorm Oppure quando C'è un problema Personale molto importante Fai fatica Perché io pure Se parlo di roba seria In molti casi però Devi starci Soprattutto quando le persone Ti dicono delle cose Delle dinamiche E quindi lì a volte Fai fatica Perché non c'ho la testa Però Io so proprio felice Cioè mi piace troppo Quello che faccio È proprio una passione viscerale Quindi questa è la cosa bella Che ho qui chiudo Bello bello Ti capisco Ti capisco bene Tosta ma è una cosa È come una relazione Alla fine È una cosa Di cui sei innamorato Che c'ha I suoi aspetti complicati Però come in ogni relazione Si affrontano Si comunica Ci si evolve Come dicevamo prima Guarda è come per esempio Il mio legame Con la città di Roma Io Roma Io Roma dico sempre Che è un po' puttana Perché è una città Che ti fa vedere Le meraviglie del mondo Però ti chiede un prezzo alto E sicuramente Anche questo lavoro È così Però Io c'ho una cosa Che mi spinge da dentro Che me lo fa proprio Apprezzare per quello che è Mi piace un sacco Non mi piacciono alcune dinamiche Perché poi Le relazioni interpersonali Si basano molto Sulla rilevanza che c'hai Sul web I numeri Però quando trovi Le persone giuste In realtà è troppo figo Bellissimo That's it Bene bene Molto bene Questa live Ci ha avuto tantissimi elementi Più trash Più seri Più belli Più divulvativi Senti Vuoi che se fanno bannare Mi dirò giù i pantaloni No no Ah c'è elicottero se vuoi No 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 Sei sicuro? Vai sereno Poi in privato Eh sì No era uscito prima Motab Stasera mi sa che lavoro Va bene ragazzi È stato bello Grazie Max Grazie a te Per l'invito Grazie Qua pure Alla radio Per l'ospitalità Veramente È figo È figa È proprio carino L'idea del format Ma pure la struttura Pure quando si entra Il locale è molto figo Quindi Bomba Bene Benissimo Un bacione Max Un bacione a voi Ciao ciao Sempre Sempre Grazie a tutti